Ecco, un grande piacere, la ringraziamo per essere nel nostro studio, finalmente ci siamo viste in collegamento. Edith Brook, grande italiana, anche se non nata in Italia, ma io sono felice, noi siamo fieri che tu abbia scelto l'Italia come il tuo paese di elezione. Sei rivenuta l'anno scorso, poco dopo che il Papa Francesco era venuto a trovarti. Da poco tu hai restituito la visita a Santa Marta e sei in libreria con questa lettera alla madre. La mamma di Edith è un rapporto così da rivedere, da ricostruire, da riallacciare perché mamma venne uccisa nei campi di concentramento di Auschwitz. Uccisa nel gazz? Nel campo di concentramento di Auschwitz, dove anche tu sei stata deportata dall'Ungheria. Mi ricordi il momento in cui ti portarono via dalla tua città, dal tuo paesino dell'Ungheria? E noi ti ringraziamo intanto per la testimonianza che è sempre fondamentale. Io vengo da un piccolo villaggio, non da una grande città. E cosa successe quando arrivarono tedeschi ma anche ungheresi? Gli ungheresi, verso il 10 di agosto del 44, però già prima ha cominciato sia la legge razziale, sia la persecuzione, sia l'aggressione, sia... Eravamo in balia proprio al paese, poteva fare di noi quello che voleva chiunque nel villaggio. Era un piccolo villaggio di 2.300 abitanti. Quindi con la legge razziale non potevamo uscire pomeriggio alle 6, ormai da tantissimo tempo. E poi in aprile, all'alba, proprio quando la nostra vicina ha regalato la farina che la mia mamma ha fatto il pane dopo la Pasqua ebraica, e il pane perduto, che è l'altro libro, prima che questo è uscito, proprio parla di quel pane lì. La vicina ha regalato la farina, mia mamma era felice, comunque non poteva infornare, perché l'alba hanno bussato alla porta i gendarmi, i fascisti ungheresi insieme, e hanno detto fuori, fuori, 5 minuti con un ricambio, urlando, bestemmiando, insultando. Allora la mia mamma correva verso una vecchia zuccheriera e ha tirato fuori le medaglie della Prima Guerra Mondiale di mio papà. Questo fascista ha preso le medaglie e ha buttato per terra, ha detto non vale più niente, non valgono più niente, né questi, né la tua vita, appestato sopra la medaglia, e lì è stata una tragedia che non dimenticherò mai, che ha dato un schiaffo a mio padre, questo ragazzo. Vabbè io ho capito qualcosa è finito definitivamente, perché era impossibile una cosa del genere. Poi niente, ci hanno portato nelle... Un ragazzo giovane che si permetteva... Nel 25 anni neanche, quindi mio papà aveva 48 e per me era vecchio, no? Ed era tuo padre la figura di riferimento, comunque immagino... Eh, la mamma cercava questa medaglia tutto il tempo, perché pensava che salva qualcosa, ma nulla era salvabile, neanche il pane. Vedo che questa umiliazione ricevuta da papà è una delle cose che ti fa ancora soffrire. Sì, mi fa piangere anche oggi, sì. Questo non passa mai, questo ricordo, perché ho avvertito lì in quel momento che qualcosa è definitivamente cambiato nella vita, definitivamente proprio. Tu avevi 13 anni, giusto? Sì, nel ghetto avevo 13 anni. Perché prima entrate nel ghetto, dove rimanete 5 settimane, e poi vi mandano, vi fanno salire su dei vagoni con un secchio buttato per i bisogni essenziali, no? Con una crudezza terribile e lì arrivate ad Auschwitz. Dopo 5 settimane nel ghetto, però devo dire una cosa che è molto importante, come è importante la signora che ha regalato la farina, che lì è venuto un contadino del villaggio, del mio villaggio, e ha portato un carro pieno di viveri, ed era molto importante vedere una persona umana che ha affrontato i fascisti, affrontato i nazisti, perché erano già il primo tedesco che ho visto, e ha buttato giù questo cibo, tutto era dentro, era un specchio di manna del cielo, ed una sensazione che esiste ancora un essere umano, esiste la luce, esiste la speranza, perché conteneva tutto questo cibo che ha portato, che cadeva da sopra il muro del ghetto. La mamma piangeva, papà era molto orgoglioso del suo amico, non ebreo naturalmente, e quindi è stato un gesto eroico, voglio dire. Perché Edith Brook non ha mai smesso, di questo ha parlato anche con Papa Francesco, di cercare la luce, se qualcuno può dare un bicchier d'acqua a Edith Brook, ne sono contenta perché... Per me è sempre difficile fare di queste cose, perché ho bisogno dell'acqua per rischiare. Io ringrazio te, come mi è capitato di ringraziare tutti i testimoni dell'Olocausto, perché so che non deve essere facile, ma so che avvertite quanto sia necessario per noi ascoltarvi. Lo so, lo so. E quindi questa reiterazione del dolore, però è in qualche modo utile per noi che... Si rinnova il dolore, si rivive le cose, ma bisogna parlare, assolutamente necessario, io da 60 anni che parlo. E lei e sua mamma furono, tu e tua mamma foste separate all'arrivo? Beh, quello è stato il momento ancora peggiore, nel senso che... Quando siamo arrivati ad Auschwitz, senza sapere dove ci portano, già nel vagone di bestiame, la mamma era molto dolce, molto calda, non è mai stata così buona come quella volta, aveva sei figli, erano poveri, è difficile che viziassero, anzi abbiamo conosciuto il no, non c'è, il no, non c'è. Lei aveva mille pensieri e mi ha pettinato nel vagone la prima volta dopo tanto tempo, che ero già grande, e ha intrecciato i capelli con un fiocco rosso e ho detto, cosa sta succedendo? Come mai è così buona la mamma? Come mai? Come è possibile? Quindi anche quello mi faceva paura, veramente, molto paura. Poi siamo arrivati ad Auschwitz e inutile ci hanno buttato giù del vagone come fossimo immondizie e c'era un gruppo di tedeschi in mezzo, un gruppo a sinistra, un gruppo a destra, più i cani lupi che abbaiavano e urlavano soltanto due parole, destra e sinistra. Rex, links, links, rechts. Non sapevamo cosa è la destra, cosa è la sinistra, non sapevamo nulla. E mi hanno buttato con la mia mamma a sinistra che voleva dire alla camaragasi immediato. L'ultimo tedesco, ecco quello che chiamo la prima luce che poi mi ha ricordato anche Papa Francesco, mi ha sussurrato di andare a destra. Ho detto, vai a destra, vai a destra, vai a destra. Ti ha salvato la vita? E io ho detto, no, 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 no. Mi sono aggrappata la carne proprio di mia madre con l'unghia e lui non poteva fare altro che abbattuto con mia madre che è caduta per terra, non ho mai più risposto. E io sono capitata a destra, anche lui mi manava, anche me, però lì era mia sorella a quattro anni più grande di me, l'ho ritrovata, urlava, mi hanno separato dalla mamma perché sì, voleva salvarmi, voleva darmi la possibilità, caso mai, di sopravvivere perché a destra voleva dire i lavori forzati. Chissà cosa passava nella testa in mezzo a quelle... Quindi eri il primo tedesco che aveva forse un attimo di pietà di questa bambina bionda, piccola, perché io ero una bambina proprio. Il Lager era il male assoluto, tu scrivi, dove comunque trovavi un po' di luce, così come quando ti mandano insieme a tua sorella e ad altre bambine a fare le cuoche in un castello, andare a fare sguattere in un castello e lì c'è qualcuno che ti lascia un po' di marmellata nella ventola. No, è prima la seconda luce è un'altra, non la marmalata che mi ha chiesto anche Papa Francesco. La seconda era molto più importante, molto più significativo che era D'Au, D'Au che io ho capito solo dopo la guerra che era 17 chilometri da Monaco, dal centro della civiltà europea voglio dire. Abbiamo scoperto dopo, io ho scoperto dopo e lì per 15 giorni abbiamo lavorato una cucina dei ufficiali, il cuoco, lì è successo e uscendo una donna mi ha dato un schiaffone sempre senza motivo e poi devo insistere all'impiccagione dei ragazzi quindi questa è la parte nera poi invece è la parte di luce cioè vi mettevano tutte e dovevate assistere alla morte dei ragazzi sì, sì, sì con la lingua fuori è una cosa che non voglio ricordare perché se no mi soffoco e invece il cuoco della cucina dove abbiamo fatto un lavoro di 15 giorni di paradiso proprio di pelare patate c'era un po' da mangiare certo e il cuoco mi ha avvicinato ho portato la patata pelata in cucina e mi ha chiesto come ti chiami allora dire al pubblico anche molte volte anche nella scuola o parlare in televisione cosa voleva dire come ti chiami e non è possibile capire il fatto che chiederti tu sei 11.152 ormai da mesi non hai nome sei calva sei con un zoccolo nella neve dappertutto e dire come ti chiami e tu puoi ripronunciare la prima volta il tuo nome che ti hanno tolto e quindi senti che tu esisti tu sei un essere umano che tu ci sei ci sei e questo non era la luce era il faro proprio era una cosa incredibile infatti ha ripetuto Papa Francesco a casa mia volevo essere io quel cuoco che le ha regalato perché lui mi ha avvicinato ha detto è una bambina piccola e dal taschino ha tolto un piccolo pettinino mi ha regalato i capelli corti così e ha detto Papa Francesco volevo essere io quel cuoco che le ha regalato il pettinino e ha fatto il gesto ed era surreale era poetico perché lui non aveva assolutamente il pettine era molto dolce molto bello devo dire c'è una cosa che io mi chiedo sempre quando ascolto i vostri racconti o leggo tutte le testimonianze della Shoah dell'Olocausto che spiegazione vi siete dati di tanta cattiveria come si può arrivare a costruire un ingranaggio di morte e di sevizie così preciso senza che questo ingranaggio non arrivi qualcuno a romperlo se non questi piccoli sbarlumi di solidarietà perché io credo che quel disastro irripetibile non paragonabile a nulla era organizzato a tavolino era proprio preparato a tavolino tra architetti tra medici tra scienziati di quanto uccidere oggi quanto uccidere domani non soltanto uccidere e bruciare ma prima prendere i cappelli far fodere dei giubbotti di togliere i denti d'oro di usare il grasso per sapone nel senso che tutto questo è organizzato a tavolino a tavolino dei grandi intellettuali dei grandi essere è mostruoso di immaginare una cosa del genere ma tutto è stato assolutamente organizzato a tavolino e di usare sia dal vivo sia dai morti tutto quello che si poteva usare quindi come diceva Primo Levi era una fabbrica di morte era un'industria della morte e una spiegazione te la sei data? come? una spiegazione non si può dare una spiegazione o una cosa del genere nessuno può dare secondo me nessuno ha dato ancora hanno provato tutti hanno provato studiosi però non non credo che mai è accaduto una cosa del genere nella storia moderna io parlo e poi c'è la mano del destino la selezione uno vive l'altro muore capita anche quando ogni settimana ad Auschwitz veniva selezionata una baracca e i bambini di quella baracca erano portati a morire tutti salvi perché scappi da tua sorella a un certo punto che era più grande no lì in Auschwitz erano dei blocchi enormi blocchi la baracca a Dao molto grande conoscete avete visto queste cose erano mille persone dentro e un giorno lì era il pericolo era di morire ogni giorno perché venivano selezionare in continuazione perché all'arrivo hanno sbagliato di quanto anni poteva avere uno hanno detto soltanto subito destra sinistra e io ero piccola perché era programmato di uccidere fino a 16 anni tutti uomini donne bambini naturalmente e dopo il 45 tutti quindi lasciare in vita la generazione in mezzo per lavori forzati e quindi in Auschwitz che non era un campo di lavoro ma di annientamento e quindi venivano ogni giorno durante l'appello la mattina alle 5 a pomeriggio alle 5 a contarci e a scegliere e si continuava questa selezione ed era il pericolo di morire ogni giorno però devo dire anche sottolineare perché è importante che le donne erano mille volte più forti forte degli uomini in generale dopo abbiamo capito perché hanno inventato di tutto per non essere selezionate per esempio per un'ombra di pane proprio di una crosticina perché davano un pezzettino così compravano un'ombra di carta rossa dove avvolgevano una volta i fiori che tingevano e anche io da bambina mi ricordo non si sa dove hanno procurato e chi questo pezzo di carta che vendeva per un'ombra di pane e allora le donne compravano e dipingevano le goette e così quanto veniva questo famigerato dottor Mengele e si salvava perché hanno pensato che non ancora in cattive condizioni da mandarla al crematorio hanno inventato anche il fondotinta con polvere acqua hanno messo sul viso per migliorare le proprie condizioni del viso e sembrare più forti sembrare meno pallide meno smonte tu avevi paura? terrore non paura nel senso che ogni giorno la vita era un miracolo ogni giorno poi la vita medi hanno studiato dopo da Auschwitz dove era anche Anna Frank era massimo tre mesi quindi e non era un campo di lavoro per fortuna perché sennò crollavi prima e la paura come la superavi? la paura non si supera la paura è la paura la paura niente invochi la vita ogni secondo che tu svegli il giorno dopo e ti appoggia anche un filo di erba ti rendi conto quanto è quelle circostazioni è importante la vita la vita la nuda vita bastava sopravvivere invocavi proprio la vita e quanto è importante un'ombra di pane è quello che oggi i ragazzi non lo sanno nessuno lo sa cosa vuol dire lettera alla madre questo è un riallacciare il filo che cosa hai voluto dire a tua madre che non hai avuto il tempo di dirle io volevo parlare con mia mamma perché quando ero una bambina non ci ascoltava perché aveva molte cose da fare io credo che ogni figlia ha da dire qualcosa alla madre che non ha detto in vita e poi capisce quanta cosa ha da dire e quanto non c'è più perché finché c'è pensiamo sempre che c'è tempo a parlare c'è tempo tanto la mamma sarà sempre lì non è così io credo che bisogna parlare se è possibile durante la vita dei genitori anche oggi parlano poco i figli con i genitori parlano con gli amici ma non con o giocano con le cose elettroniche io volevo parlare a mia madre per rimproverarla anche quello che anche se nella povertà poteva dare una carezza in più o una parola in più anche perché ero sempre piena di domande tutta la mia vita fin da quando avevo sei anni io domandavo a mia mamma perché questo perché questo perché quello e mi chiedo ancora oggi il perché tantissimi perché alla quale non c'è risposta ancora e volevo parlare con lei per farla capire quanto l'amavo e a mio padre ancora non ho scritto una lettera perché non riesco mi strozza l'idea di fare troppo dolore sì però la mia mamma volevo anche dirle quello che è mancato adesso capisco che non poteva dare di più e non poteva occuparsi di più dai figli perché aveva i problemi del pranzo mettere insieme con la cena però quello che ho imparato da mia madre io sono salva proprio per mia madre secondo me e ho sempre scritto nelle poesie che è stata lei a salvarmi perché ho avuto un'educazione molto severa onesta e la mia mamma diceva ogni volta per chiunque sia questo se bussano la porta apri apri la porta fai entrare le persone e ha detto sempre sempre se qualcuno tende la mano dare qualcosa dai qualcosa anche del poco quindi questo era molto importante nella mia vita anche oggi anche ieri anche nei campi e poi ha detto dove c'è da mangiare per tre c'è anche per quattro e non c'era neanche per tre di dividere per poco che sia anche i zingari dava dell'olio già fritto nessuno dava soltanto mia mamma e mio papà invece si è liberato perché ha trovato uno più povero il proprio unico capotto quindi la mia educazione è questo e per cui io credo che anche nei campi mi sono comportata con la massima onesta io non ho mai strapato dalla bocca di nessuno niente perché ci strapavamo dalla bocca la gente le cose rubava per poco aveva mai ho toccato niente di nessuno quindi io credo che in fondo forse mia mamma che mi ha salvato in qualche maniera di restare un essere umano con la mia dignità grazie grazie come si chiamava la mamma come si chiamava la mamma Berta Berta grazie come all'uccello grazie grazie a voi grazie a Berta davvero grazie anche per non aver mai provato odio e rancore che è una cosa che io trovo immensa sappiamo che è stato da poco il tuo novantunesimo compleanno e c'è il nostro Antonio Mezzancella che ti vuole un piccolo pensiero da parte di tutti noi grazie un po' in ritardo grazie non è ritardo mai è ritardo per i fiori io adoro i fiori meno male spero che sia un po' di vivere senza fiori che bello grazie davvero lettera alla madre grazie a voi